novena alla regina della pace di meggiugorje per i 40 anni delle sue apparizioni nel nome del padre del figlio e dello spirito santo amen preghiamo per i veggenti preghiera alla regina della pace madre di dio e madre nostra maria regina della pace sei venuta in mezzo a noi per guidarci a dio ottieni per noi da lui la grazia affinché sul tuo esempio anche noi possiamo non solo dire avvenga di me secondo la tua parola ma anche metterla in pratica nelle tue mani mettiamo le nostre mani perché attraverso le nostre miserie difficoltà ci possa accompagnare fino a lui per cristo nostro signore ora invochiamo lo spirito santo vieni o spirito creatore visita le nostre menti riempi della tua grazia i cuori che hai creato dolce consolatore dono del padre altissimo acqua viva fuoco amore santo crisma dell'anima dito della mano di dio promesso dal salvatore radia i tuoi sette doni suscita in noi la parola si luce all'intelletto fiamma ardente nel cuore sana le nostre ferite col balsamo del tuo amore difendici dal nemico reca in dono la pace la tua guida invincibile ci preservi dal male luce ed eterna sapienza svelaci il grande mistero di dio padre e del figlio uniti in un solo amore amen ora rileggiamo il messaggio del 25 giugno 1999 cari figli oggi vi ringrazio perché vivete e testimoniate con la vostra vita i miei messaggi figlioli siate forti e pregate perché la vostra preghiera vi dia forza e gioia solo così ciascuno di voi sarà mio ed io lo guiderò sulla strada della salvezza figlioli pregate e testimoniate con la vostra vita la mia presenza qui che ogni giorno sia per voi una gioiosa testimonianza dell'amore di dio grazie per aver risposto alla mia chiamata prima della preghiera finale per chi vuole possono recitare le lutanie lauretane preghiamo signore tu inviti tutti noi cristiani ad essere testimoni sinceri della tua vita e del tuo amore oggi ti ringraziamo in modo particolare per i veggenti per la loro missione la testimonianza che danno dei messaggi della regina della pace ti offriamo tutti i loro bisogni e ti preghiamo per ognuno di loro affinché tu sia loro vicino e li aiuti a crescere nell'esperienza della tua forza ti preghiamo perché attraverso una più profonda ed umile preghiera tu li possa guidare verso una sincera testimonianza della presenza della madonna in questo luogo ame